eeeh babbo signore e signori a teatro di Roma un'onda un'eserotante stupefacente yeah yeah che babbo è ciò in studio franco attanato demo sei pronto? pronto salve buonasera benvenuti a Mese Franco questo è Kebabbo un applauso per lei grazie aspetti allora un attimo che le passo la regia le spiega il gioco siamo un attimo in pubblicità pronto? si buongiorno si salve sono Johnny della regia mi sente? si la sento benissimo lei di dov'è? dove mi ha appena chiamato e abbiamo estratto telefonici ah bene 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 di como? di como? quanto ho vinto? allora solo per aver partecipato lei vince 1000 euro subito sicuri? ah subito che bello dimmi adesso senza ironia senza sempre con la serietà certo che ci contraddistingue da diversi anni io le passo franco in diretta le farà tre giochi rapidi che la porteranno a vincere fino a 50.000 euro qualora lei vincesse se lei perde 1000 comunque sono suoi ah bene sono contento va bene mi dica tutto franco abbiamo vincenzo in linea per giocare allora il concorrente è un mobiliere di como vede mobili vecchi questo qua vai Johnny te volevo dire una cosa ma praticamente perché qua dove ci sono gli spettatori non mi hai messo davanti i bambini che cucivano i palloni ma no eh franca dove sono i bambini? 5 secondi portami avanti i bambini ci siamo è pronti eh? quando vuoi? signor vincenzo stia a zetto che ne siamo un appuntamento che stiamo registrando 3,5,4,3,2,1 vai buonasera a tutti e benvenuti in un'altra puntata di Kebabo sempre qui su Mediaset Flacco noi siamo in diretta un applauso del pubblico pagante allora tutto bene anche oggi come prima avete visto abbiamo avuto un grande ospite Enzo Paolo Turchi che è venuto a spiegarci come avere un figlio a 50 anni comunque adesso piano piano entriamo ma come sempre abbiamo un telespettatore che ci chiama da Como mi sembra pronto? sì pronto salve lei è un signore? vincenzo vincenzo come sta? bene allora lei quanti anni ha signore? 41 41 anni cosa fa nella vita? il magniaccio no no eh che cazzo fai mi chiudi il telefono in faccia in diretta quando ho capito che cazzo fai? ero educato se sei intelligente fai il numero con il numero giusto non il numero segreto vabbè ci parlare a me questo c***o beh passamela a me vincenzo 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 sono il conduttore vincenzo sono il conduttore vincenzo oh pezzo di m***a tu mi ero puntata e tu non ci credo perché sei troppo maleducato e allora guarda la televisione c***o di m***a dopo vari tentativi di contattare il ridicolo andati a vuoto usiamo l'esca Patrick di Radio Monte Carlo si finge un cliente interessato ad acquistare uno specchio la reddica ci caschi di nuovo pronto? si salve buonasera buonasera la reddica avevo bisogno di una specchiera antica si da un metro e venti si più o meno di messo un metro e venti per cinquanta ce l'ho quanto può quanto può eh guardi due per cento euro ah ok ma antica antica con cioè nel senso gli specchi che sono un po' rovinati quelli quelli antichizzate Vincenzo dimmi sei un co**o di merda lo sai ma dimmi se ti piace giocare se ti piace dire sicuramente tu a me mi conosci per fare così Vincenzo non mi interessa vincere i mille euro ascoltamente non mi interessa allora va bene allora va bene facciamo una cosa grazie allora adesso quando rientriamo dalla pubblicità devi solo dire io non accetto di giocare così noi cambiamo il concorrente e siamo a posto puoi farlo questa cosa? ma stai scherzando anche per te quelle altre allora aspetta trenta secondi che rientriamo dalla pubblicità parte ancora l'applauso dopo l'applauso ti dico Vincenzo allora hai deciso tu dici guardi io non accetto di giocare e poi mettiamo giù va bene? va bene sei pronto? sì se ancora tu sei sempre io se mi chiamate per posto sempre io bravo bravo sono tutti bentornati in diretta sempre qui a mezzo e franco siamo sempre su kebabbo come ho detto anche oggi gli ospiti avevamo un ospite telefonico un telespettatore che ci chiamava da como pronto Vincenzo ci sei? sì ci sono buongiorno buongiorno Vincenzo abbiamo avuto un prippocquad non ci siamo capiti giusto? quindi abbiamo dedotto che tu non vuoi più giocare giusto? giusto quindi puoi dirlo apertamente che rinuncia i tuoi mille euro in città dei parpalli quindi rinuncio rinuncia i mille euro perché sei un c***o di merda grazie mille grazie un applauso e c***o grazie e andiamo avanti altri 30 secondi di pubblicità che me lo sistemo ciao pronto Vincenzo scusi se ti ho insultato grazie